l'Ukraine è alla quarta partecipazione europea consecutiva e c'è da dire che è una squadra molto molto temibile per comunque candidatissima a superare il suo girone d'appartenenza perché perché la squadra di serie reprov ha tanto talento può essere molto molto solida e nel quattro e tre può esprimere tanto talento penso già dai portieri che possono essere l'Uni non Trubin quindi due portieri importanti ma poi vado al centrocampo dove ci sono Mudrik c'è Sudakov c'è Gincenco giocatori di qualità poi lì davanti possiamo ammirare Iaremciuk del Valencia e Dopovic del Girona quindi davvero una squadra ricca di talento che sebbene assortita può impensierire tanto gli avversari. No già detto il ballottaggio delle pali è molto molto stretto perché comunque Anatoly Trublin e Andri Lunin sono due portieri di assoluta qualità anche se devo dire che Trublin ha benfica qualche piccolo mancanza alla buta ecco mentre Lunin ha difeso in maniera eccellente i pali del Real Madrid quest'anno quindi probabilmente Lunin sarà il titolare ma il ballottaggio è stretto e non mi sorprenderei di vedere sorprese. Non detto c'è talento in ogni parte del campo quindi c'è talento anche in difesa io penso a Konopla e Mikolenko come due esterni di assoluta qualità penso Konopla nello Chattardone si ha mostrato un'ottima sicurezza anche una buona spinta anche di Mikolenko all'Everton tantissima spinta anche al centro da difesa c'è Mattienko dello Chattardone che ha fatto benissimo un'ottima stagione ci sarà anche Zaparni anche lui che viene da un'ottima stagione con la malla del Bournemouth quindi tante scelte per il CT nomi interessanti che danno garanzie e che magari forse mancano di un po' di esperienza internazionale però sicuramente delle scelte possibili e importanti per il CT dell'Ucraina. Il centrocampo agirà Zinchenko come collante fra difesa e centrocampo Zinchenko dell'Arsenal che nonostante faccia il terzino è abilissimo anche come interprete centrale e a suo fianco ci dovrebbe essere Ruslan Malinowski che a Genova quest'anno interpreta un nuovo ruolo passando dalla trequartista a regista di centrocampo poi dalla trequarti su la qualità è tanta perché c'è Sudakov sulla trequarti il giocatore dello Chattardone per me è uno degli astri nascenti del calcio internazionale perché ha tecnica, velocità, fisico, dribbling, ha il tiri in porta, ha visione di gioco periferico quindi davvero un trequartista completo che è pronto a mettersi in mostra in questa ribalta internazionale ma poi non dimentichiamo di Modric che non ha vissuto un bel periodo dal Chelsea ma è un giocatore bravissimo nell'uno contro uno, molto molto abile nel uno contro uno molto molto veloce sia nello stretto che in campo largo quindi anche Modric può essere un nome spendibilissimo per questa kermesse europea ma poi abbiamo anche Saganov, anche lui un esterno, un trequartista esterno abile e veloce ma ci sono tantissimi altri nomi io penso ad esempio anche a Henry Armolenko probabilmente è l'uomo più conosciuto di questa nazionale che viene da un infortuno con la maglia di Dynamo Chievi quindi sta recuperando ma è sicuramente un trequartista molto molto temibile poi ci sono, ripeto, altri nomi come Siborchuk, come Stefanenko, come Sudakov Sudakov l'ho detto, come Zubkov, come Shefarenko quindi davvero tantissima scelta per il centrocampo dell'Ucraina e lì davanti sarà una scelta dura fra Jaremchuk e Dobvik del Girona probabilmente la scelta ricadrà sul giocatore che gioca nel Girona quindi Dobvik perché è un giocatore abile nell'uno contro uno abile nelle conclusioni, abilissimo anche a dialogare con i compagni quindi dopo una stagione in cui ha davvero sorpreso con il Girona è pronto a prendersi la titolarità della maniera nazionale ucraina ucraina che promette davvero di fare un ottimo Euro 2024 inscrivato